Questo racconto è molto più d'una fantasia. Siete David Copperfield? Lo sono i comi. È la vera storia della vita che stavo per iniziare. Vostra madre è malata. Quanto malata. Molto malata. Terribilmente malata. È morta. Siamo spiacenti. Mi tornano alla mente i personaggi dall'animo audace. Buongiorno! Buongiorno! È troppo presto per un goccetto? Un pochettino. E il loro ricordo si intreccia. Entrate! Mettetevi in fila. Al viaggio della mia vita. Siamo in rovina. Come un castello. Creditorio! Come siamo in rovina. Come un enorme castello. Testa! Potremmo tenerlo come cagnolino. Scherzavo, perdonatemi. Sto cercando di imparare l'umorismo aristocratico da un libro. Si impone un festeggiamento. Evviva! Una memorabile giornata. L'avete sentito? Sono un pazzo furioso! Che avventura è stata! Attento! Ma che fate? Medicina, per farti rinvenire. È un intingolo per insalate? Ah sì? Grazie. Come vi chiamate? Copperfield. 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 Così cortese. No!